Volevo scriverti da tanto ma poi ste cose non le fai e dirtelo da troppo tempo così che non l'ho fatto mai un po' di cuore se lo chiede se sono matta o no vuoi ascoltarmi tra le pieghe di un cielo ancora più blu Siena città misteriosa perché fatta a chiocciola con le vie attorcigliate l'una sull'altra ci attende sotto le torri e una luna enorme è la città d'Italia rimasta più intera una città del medioevo un'opera d'arte unica che non ha paragone nel nostro mondo occidentale un solo animale completo con testa cuore arterie e zampe di cui rimane lo scheletro quasi intatto depositato su tre colli così Siena mi fu definita da Bernard Berenson e per quanto io faccia non riesco a trovare una definizione migliore di questa malgrado alcune violenze dei deturpatori tanto più gravi perché perpretate a danno di una città coerente come un corpo e un racconto i motivi di meraviglia rimangono sempre gli stessi Firenze è una città medioevale rivestita dal rinascimento ma Siena resta medioevale e quasi immobilizzata nel tempo la meraviglia nasce dalla visione di uno scheletro intatto di città medioevale che ha nulla di archeologico la vita ad oggi con le sue accese passioni vi ribolle quasi con furia mai, nemmeno per un istante si ha l'impressione di vivere in un acronismo a Siena si hanno quei momenti perfetti in cui il passato più lontano risale a galla fino a noi confondendoci col presente diventandogli contemporanei non potrò mai dimenticare una sera in cui sedevo in piazza del campo quella in cui si corre il palio davanti a me la luna piena sembrava veramente salire dai merli gotici del palazzo pubblico lungo il filo della torre del mangia per poi librarsi sopra l'ultimo ballatoio che diveneva allora l'ultima tappa di una salita di luna in un medioevo astronomico ma il popolo passeggiava e i bambini giocavano lungo il perimetro nel centro incavato della stupenda piazza fatta a forma di palva il passato e il presente, il vicino e l'astrale sembravano far parte di un medesimo tempo il mistero della città viene dalle sue strade strette, curve girate le une sulle altre a forma di spirale o di chiocciola o se vogliamo prendere il paragone più vieto dei petali di una rosa che si coprono con le loro strali infilando una strada si ha l'impressione di costeggiare senza vederla una strada più interna e di compiere il giro della città pure in uno spazio ristretto seguendo un numero infinito di itinerari così ogni strada ha un doppio fondo, un segreto e quasi un retroscena che l'accompagna e questo è il primo e il grande incanto di Siena intonati con Siena Medioevale erano perfino i ragazzini cattivi simili a piccoli alceri che guardavano di notte da una finestra del mio albergo in questo scheletro di una città medioevale direi che anche i sentimenti sono asciutti ridotti all'osso e animati da uno spirito di antagonismo innato iscriviti al canale 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 stasù iscriviti al canale stringendo forte iscriviti al canale iscriviti al canale